Il nuovo DS dell'Ancona Roberto Alberti, intanto il motivo che l'ha spinta ad accettare questa proposta è in un momento particolare, non soltanto perché è chiuso il mercato ma anche perché è un periodo del campionato in cui l'Ancona si trova a meno 8 dalla prima e soprattutto con 4 squadre davanti a sé in classifica. Sicuramente è un momento particolare perché siamo arrivati quasi al giro di Boa, è un momento in cui il Presidente ha dato le proprie dimissioni, sicuramente è un momento difficile però se sono arrivato qui è perché credo in questo progetto e voglio portare entusiasmo, voglio portare le mie competenze perché dobbiamo tirar fuori il meglio da questo gruppo perché l'Ancona sicuramente merita di lottare per i vertici alti della classifica. La prima scelta che lei ha fatto è quella di riportare sulla panchina dell'Ancona Mr. Favo, perché? Perché stimo molto Massimiliano sia da un punto di vista professionale che anche da un punto di vista umano perché credo che in questo momento sia la persona adatta per poter contribuire da un punto di vista tecnico alla risalita dei ragazzi. A fianco a lui ci sarà Marco Lelli che è un'altra persona importante, già loro avevano lavorato insieme l'anno scorso, hanno rinsaldato un legame che già c'era precedentemente, è un grande uomo, è un grande tifoso dell'Ancona quindi da questo punto di vista come inizio sono molto soddisfatto perché era la mia prima idea però devo anche ringraziare la proprietà, il Presidente e la società che hanno subito avvallato questa mia decisione. Grazie